ciao ragazzi benvenuti o bentornati a un nuovo video io sono cristina e oggi andremo a parlare di morning routine andrò a condividere con voi non solo tutte quelle abitudini e quei piccoli step che faccio nella mia routine mattutina per sentirmi carica ed energica e produttiva durante la giornata ma vi andrò anche a illustrare alcuni punti che possono essere la ragione per cui la maggior parte di noi non riesce per un lungo periodo di tempo a mantenere una determinata abitudine o un'adeguata e sana morning routine se seguite i miei video il setup oggi è un pochino diverso sto testando questo microfono che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog quindi speriamo che funzioni tutto bene e che l'audio sia al meglio fatemi sapere mi raccomando nei commenti che cosa pensate e detto questo cominciamo con il video uno dei libri più significativi che ho letto negli ultimi anni che ho letto nel 2019 che è stato anche una grande fonte di ispirazione per la mia tesi per la tesi che ho fatto a londra l6 che dovevo scrivere di 8.000 parole è il libro di james clear di cui probabilmente avete già sentito parlare chiamato atomic habits c'è un passaggio che mi piace molto di quel libro in cui clear dice che in poche parole noi siamo ciò che facciamo ripetutamente e sono le nostre abitudini a creare alla fine la persona che noi siamo veramente e la personalità che ci distingue se come me siete sempre alla ricerca di nuovi metodi per lavorare meglio e migliorare la propria produttività avrete sicuramente avuto l'occasione di provare le mille tecniche e abitudini che le persone di successo sembrano decantare come ad esempio meditare bere acqua e limone correre appena alzati o mettere la sveglia alle 5 del mattino e così via ma sinceramente se c'è una cosa che ho imparato negli ultimi anni dopo i miei innumerevoli tentativi ed errori nel costruire una morning routine ideale è che innanzitutto less is more la morning routine inizia dalla sera prima è fondamentale ridurre al massimo la cosiddetta decision fatigue e per mantenere le proprie abitudini bisogna trovare sinceramente un equilibrio tra piacere relax e produttività se no non si può andare avanti quindi la prima cosa che voglio farvi capire che ho capito io stessa in questi ultimi anni è che non c'è bisogno di fare 27.000 cose appena alzati per sentirsi bene e non è importante quando si va a letto e questo è un punto che probabilmente interesserà a molti di voi e adesso la mia domanda quindi è come possiamo creare una morning routine che funzioni per le nostre necessità che non necessariamente o quasi mai rispecchiano i bisogni degli altri secondo me l'unica disposta a questa domanda è facendo ciò che ci fa stare bene ciò che ci fa venire voglia di alzarci dal letto che sia leggere qualche pagina di un libro prima di alzarsi fare la skin care con calma bere in silenzio il proprio caffè fare una passeggiata oppure trovare il tempo e lo spazio per allenarsi per quella carica di endorfine mattutina e penso che questo sia il momento perfetto per introdurre lo sponsor di oggi letyshop che sta sponsorizzando questa piccola parte del video letyshops non è altro che è un servizio di cashback che ti consente in poche parole di recuperare i soldi di cose che avresti comunque acquistato e che avresti comunque con piacere acquistato a prezzo pieno come ad esempio la skin care i libri e la tecnologia per chi non lo sapesse il termine cashback sta per soldi indietro il che significa che grazie a questo sito potete avere una percentuale di soldi indietro di quello che acquistate che siano vestiti libri elettronica accessori o anche skin care il servizio è completamente gratuito e potete guadagnare il 30 per cento dei vostri acquisti su marchi che sinceramente non sono assolutamente poco conosciuti c'è sephora douglas ibs apple store libraccio e così via è super semplice da usare c'è anche l'app che è molto user friendly e carina andate a cercare il prodotto e il brand da cui volete acquistare effettuate l'acquisto in app e potete scegliere di pagare sia con carta di credito che paypal e magari in un paio di mesi riuscite ad accumulare anche 50 euro su cose che avreste comprato comunque senza fare assolutamente nulla e questo è un modo fantastico per poter provare e sperimentare con nuova skin care con nuovi ingredienti per mantenere sana e luminosa la nostra pelle oppure avere la possibilità di comprare più libri e anche ampliare la propria cultura il che non fa mai male adesso andiamo a parlare un pochino per bene della morning routine della mia morning routine in particolare come ho già detto inizia tutto dalla sera prima prima di andare a letto cerco di avere una to do list pronta per il giorno dopo magari anche divisa in am e pm quindi mattina e pomeriggio in modo da ridurre la cosiddetta decision fatigue che vi ho già menzionato precedentemente lo studio della decision fatigue in poche parole dice che la capacità di prendere buone decisioni è inversamente proporzionale al numero di decisioni che dobbiamo prendere nel corso della giornata se abbiamo troppa scelta che sia scegliere cosa indossare al mattino quale salsa di pomodoro comprare tra i 50 marchi al supermercato o decidere qual è la prima materia che dobbiamo studiare porta a un effetto cumulativo che ha come conseguenza il deterioramento della qualità di una decisione dopo aver preso appunto troppe decisioni ecco perché dicono sempre che preparare i vestiti la sera prima o avere la colazione già pronta prima di uscire di casa è importante per ridurre il numero di decisioni che ci permettono a fine giornata di rimanere più lucidi nei quattro punti che vi ho menzionato un altro punto importantissimo è quello di riuscire a trovare un equilibrio tra produttività piacere e relax e dopo aver trovato che cosa ci fa stare bene che cosa ci piace fare al mattino secondo me è importantissimo avere una specie di lista di bake up dove andiamo a scrivere la nostra morning routine ideale un esercizio che potete trovare anche nella mia more or less journal che vi ricordo è sempre disponibile su acreative life.com questo è un modo per ricordare a voi stessi cosa vi fa stare bene le attività che funzionano effettivamente per voi in quei periodi in cui magari o per un motivo o per l'altro non siete in grado di seguire le vostre abitudini positive e adesso andiamo a parlare un pochino della mia morning routine ideale nella mia morning routine ideale quando ho tempo e mi sono organizzata per bene idealmente mi sveglio alle 7 7 30 vado in bagno mi lavo la faccia e mi preparo un caffè e un piccolo snack per poi mettere la tuta e fare di solito dai 25 ai 40 minuti di esercizio che sinceramente varia in base a come mi sento quel giorno mentre guardo qualche video motivazionale o ascolto qualche buon podcast a questo punto passo alla mia skin care e alla doccia metto dei vestiti comodi e mi dirigo impaziente verso la colazione che di solito è più o meno sempre la stessa ad eccezione del weekend proprio per ridurre questo fattore di cosa faccio a colazione e quindi la decision fatigue cerco sempre di avere un pasto bilanciato con tutti i nutrienti per farmi sentire bene soddisfatta e anche energetica mentre faccio colazione mi piace leggere qualche pagina di un libro oppure scrollo su pinterest dove do particolarmente attenzione alla mia cartella privata che ho chiamato manifest dove metto tutte le foto e le citazioni di ciò che vorrei essere in futuro e come mi vorrei sentire e parleremo dell'argomento più nel dettaglio in un video a breve fatemi sapere se siete interessati e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo siete dopodiché se riesco a ricordarmi scrivo tre cose di cui sono grata e metto una stellina sulle tre cose più importanti da fare quel giorno poi metto in ordine la cucina metto un pochino in ordine anche il mio spazio di lavoro se è incasinato e inizio la mia giornata quindi questo è un pochino il riassunto della mia morning routine e questi sono i miei consigli per iniziare al meglio la giornata e per cercare di aiutarvi a costruire una routine ideale per voi se volete vedere la mia morning routine più in formato vlog oppure se siete interessati anche a una night routine mi raccomando scrivetelo qua sotto nei commenti e fatemelo sapere mettete mi piace se vi è piaciuto questo video seguitemi su instagram e andate a vedere ovviamente la mia agenda monolesse con molti altri prodotti sul mio shop online detto questo io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video ciao ciao